Bene. Che cos'è un editore? Si è domandato il quarantenne Gian Giacomo Filtrinelli nel 1967, da soli dieci anni a capo della casa editrice che porta il suo nome, ma a quel tempo già conosciuta in tutto il mondo. È la vigilia del 68 e sulla rivista King risponde a quella sua stessa domanda così. Non so che cosa sia l'editore, l'editore in sé, ma cerco di ascoltare le ragioni per cui faccio l'editore. E ammetto, l'editore non ha niente da insegnare, non ha niente da predicare, non vuol catechizzare. In un certo senso non sa niente. E ancora ammetto, scrive sempre Filtrinelli, l'editore è una carretta, è tutt'al più uno che porta carta scritta, è un veicolo di messaggi, per parafrasare quel McLuhan di cui si parla tanto, è un fautore di messaggi che siano anche massaggi. E aggiunge, l'editore è niente, puro luogo d'incontro, di smistamento, di ricezione, di trasmissione. 50 anni fa esatti, il 14 marzo, Filtrinelli viene ritrovato dilaniato dalla dinamite, ai piedi di un traliccio nella campagna di Segrate fuori Milano. Colono Stringhetti per primo ha scorto il cadavere sotto il traliccio con l'aiuto di questo cane, di questo piccolo cane nero. Ci può raccontare com'andata? Continuo a bagliare avanti e indietro, allora mi sono deciso di andare a vedere cosa c'era e ho visto questo cadavere disteso per terra, tutto maciullato, insomma, con una gamba a distanza a 10 metri più o meno. Nella notte fra martedì e mercoledì un contadino sente un'esplosione nella campagna che circonda la sua casa, nella zona di Segrate a pochi chilometri da Milano. Non dà peso al fatto. Il giorno successivo, nel primo pomeriggio, il suo cane lo attira abbaiando verso un traliccio dell'alta tensione. Ai piedi della torre metallica c'è il corpo di un uomo morto. 41 candelotti di esplosivo del tipo Dinamon, che è un esplosivo che viene usato nelle cave di sassi per le volate delle mine, sono lì intorno e si presume subito che l'uomo sia stato diragnato dall'esplosione dei candelotti, di una parte dei candelotti. Esplosione accidentale, si pensa. Ci sono i dati che insospettiscono le fotografie, altri elementi e si pensa a Giacomo Feltrinelli che vediamo in un'immagine di repertorio e la cui residente era da tempo incerta, era stato segnalato a Parigi, ad Hamburgo, in Carinzia e anche in Italia. Un documento che è stato diffuso poche ore fa dalla casa editrice Feltrinelli ed è stato sottoscritto fra gli altri da Camilla Cederna, Giuliano Spazzali, Enzo Paci, Marco Fini, Paolo Portoghesi, il movimento studentesco milanese, si afferma testualmente che Gian Giacomo Feltrinelli è stato assassinato. Il documento sostiene che la criminale provocazione e il mostruoso assassino di Feltrinelli sono la risposta delle reazioni internazionali allo smascheramento della strage di Stato nel momento in cui si dimostra che il processo Valpreda è stato costruito illegalmente e dalle indagini della magistratura emergono precise responsabilità della destra. L'editore che girava con una carta di identità falsa, come vediamo, intestata a Vincenzo Maggioni, aveva fondato qualche anno prima, dopo la strage di Piazza Fontana e di fronte a false accuse di coinvolgimento, IGAP, Gruppo d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Il suo nome di battaglia era Osvaldo e finanziava attentati dandosi alla clandestinità. Clandestinità. La parola non mi piace ha dichiarato di recente il figlio Carlo, attuale presidente della Feltrinelli, spiegando così le sue ragioni. Dovette rendersi irreperibile. Ci bruciavano le librerie, la polizia perseguiva la sede di Via Andegari. Gian Giacomo Feltrinelli lascia così una casa editrice impegnata a cogliere l'urgente che può durare. Libri per rappresentare o meglio anticipare una società in continuo cambiamento, attraverso il confronto tra le diverse realtà e opinioni. Anche queste sono parole di Carlo Feltrinelli, pronunciate quindici anni fa in un incontro con gli studenti del Laboratorio di Editoria qui in Università Cattolica. Sabato 16 giugno 1955 è la data di nascita, di uscita, ma di nascita effettivamente della casa editrice, dei primi due libri. L'autobiografia di Nero e il flagello della svastica di Lord Russell di Liverpool, tradotto da uno dei primi redattori, Luciano Bianciardi. Il 29enne editore Gian Giacomo ha fondato la società l'anno prima sulle ceneri della Colip, cooperativa del Libro Popolare, di cui ha rilevato una collana fortunata di tascabili a basso costo venduti a soli 100 euro. È quell'universale economica del canguro che dal giugno 1949, poco dopo lo storico lancio della prima bourre, la tipica grigia, ha sfornato un libro la settimana contro l'oscurantismo, come recitava uno degli slogan promozionali. Il giovane imprenditore è forte, ed è forte di un grandissimo capitale familiare. Non dimentichiamo che Feltrinelli è una delle famiglie più ricche d'Italia. Pensate che Feltrinelli è stata alla presidenza, non Gian Giacomo, ma i predecessori alla presidenza della Edison, del Credito Italiano, che addirittura è una famiglia che può tentare anche l'acquisto della Pietà Rondanini di Michelangelo. Gian Giacomo ha però un'altrettanta grande passione, la politica e soprattutto di ispirazione marxista, che sembra cozzare con le radici capitalistiche in cui cresce. Così, in quello stesso 1949, dà vita sul suggerimento di Togliatti, ispirato da un sacerdote amico, alla Biblioteca Feltrinelli, per lo studio della storia contemporanea, del socialismo, del movimento operaio, recuperando rarità storiche in tutto il mondo, che vanno a costituire un patrimonio bibliografico unico, presto divenuto di fama internazionale, e sarà la base dell'attuale Fondazione Feltrinelli. Quando vuole imprimere una maggiore incisività al suo impegno, sceglie sempre i libri e quindi decide di farli in prima persona, per diffondere meglio una cultura democratica, come la chiama. E grazie all'esperienza acquisita negli affari, imposta il lavoro con accortezza. Si circonda di collaboratori di qualità, da Bianciardi a Valerio Riva e Giampiero Brega, affidando poi a Giorgio Bassani una redazione romana. E investe in comunicazione, acquisisce direttamente la gestione della delicata fase della distribuzione, della vendita, attraverso la EDA, editori, distributori, associati, già in sue mani, e con lungimiranza non tralascia le librerie. Apre la prima libreria Feltrinelli a Pisa, già nel 1957, quando inaugura anche un negozio a Milano. E come i suoi libri, anche le librerie sono aperte il più possibile al nuovo, ai bisogni sociali giovanili, con ampi settori dedicati ai libri economici, con uno spazio a quel tempo inusuale per quotidiani e riviste, con un angolo per sedersi, talvolta un calciobalilla. L'esperienza della biblioteca Feltrinelli, con emissari e cacciatori di libri poi in tutto il mondo, serve poi alla causa editoriale. E così i rapporti con il PC, sempre nel 57, soltanto due anni dopo i primi titoli, arriva al successo, ed è un caso editoriale che diventa subito internazionale, il dottor Zivago di Boris Pasternak. Glielo segnalo un funzionario comunista, Sergio D'Angelo, che recandosi a Mosca per trasmissioni radio italo-sovietiche, si propone come talent scout in URSS e Gian Giacomo accetta. Pubblica il dottor Zivago in prima mondiale con i diritti universali che riesce ad avere grazie a una strana legislazione sovietica, che consente questo a chi pubblica per primo un testo di autore russo fuori dai confini sovietici. E lo fa, però, contro la proibizione del governo sovietico, che reputa Pasternak un dissidente, ma anche contro, in Italia, il Partito Comunista, il suo Partito Comunista, in cui Gian Giacomo Feltrinelli milita e di cui è finanziatore, e con cui ha avviato la sua carriera imprenditoriale. È il primo vero best-seller internazionale del dopoguerra, subito tradotto in 26 lingue e l'anno dopo frutta al suo autore il premio Nobel, al quale però deve rinunciare per le ostilità delle autorità russe. La vicenda, degna di un romanzo compreso l'intervento della CIA, del KGB, è raccontata con passione e lettere inedite da Carlo Feltrinelli, nella biografia del padre intitolato dalla marca di sigarette inglesi che fumava, Senior Service, e da pochi giorni in questa nuova edizione con un appendice molto ricca e stimolante, tra l'altro con una bellissima lettera alla terza moglie Inge. Nel 58 arriva un nuovo successo, Il gatto pardo, un romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa rifiutato, comunque non compreso per varie ragioni dalle grandi case editrici, ma sostenuto con eccezionale fiuto letterario da Bassani. E questo libro diventa un altro giro del mondo per il giovane editore, anche grazie alla trasposizione cinematografica sul grande schermo, firmata da Lucchino Visconti, con il celebre ballo a Donna Fugata di Bar Lancaster e Claudia Cardinale, posta poi in una edizione del Tascabile. In pochi anni Feltrinelli arriva a cogliere grandissime soddisfazioni, più grandi non poteva immaginarle. Vendite da capogiro, visibilità internazionale, come pochi altri grandi editori italiani hanno raggiunto, e solo dopo decenni di attività, lui subito, nel giro di pochi anni. Ma non c'è soltanto narrativa, pur scelta da lui come documento e testimonianza di epoche, culture, umanità. Nell'ascesa bruciante di Gian Giacomo Feltrinelli c'è anche molta saggistica, c'è la scienza, e in particolare c'è attualità politica, dalla quale è sempre più attratto. Infatti si avvicina a gruppi estremisti, a sponenti della rivoluzione, prima di tutto in Sud America e poi a Cuba, dove incontra Fidel Castro e con lui progetta una sua autobiografia, naufragata però dopo alcuni anni. Ma la linea editoriale pare implicitamente chiara fin dai primi titoli, secondo quanto conferma l'editore stesso, che scrive. Corrispondevano a tre dei principali filoni che furono i leitmotiv che la Casa sviluppò con particolare attenzione. Il primo, quello di un antifascismo conseguente coerente. Il secondo, quello di una forma di coesistenza tra Paesi di diverse strutture economiche e politiche, che, e questo era il terzo filone, non accettasse la cristallizzazione dell'allora esistente geografia economico-politica, ma presupponesse la possibilità per le forze nuove del terzo mondo, dei Paesi che uscivano da una dominazione coloniale, di trovare un proprio assetto ed inserirsi con forza nel sistema politico mondiale. Lo dichiara introducendo il catalogo dei primi dieci anni, nel 1965. Però la valenza sociale del progetto traspare anche dalla veste editoriale dei libri, come bene immateriale e durevole, aderente sempre un impegno forte, senza veli, senza mediazioni, quasi in presa diretta, almeno nei primi anni, grazie alle proposte grafiche di un grandissimo grafico impegnato come Albe Steiner. È una linea tuttora presente, in parte, nel paratesto della Casa editrice, orientato a una comunicazione immediata, legata all'attualità, all'intervento su problemi sociali, per lo più senza orpelli quali copertine rigide, carte patinate o abbellimenti vari, non funzionali. E dopo tutto la scelta anche attuale del formato e della brossura, anche per la saggistica, mai esclusivamente universitaria o per i volumi fotografici, è coerente con la protocollana economica del canguro, della colip. Lo stesso può dirsi per l'uso dell'immagine e delle copertine che dimostrano, fin dai primi anni, rispetto a modelli vicini di editoria di cultura come Inaudi, secondo quanto ha storicizzato Giancarlo Ferretti, una maggiore aggressività nella conquista degli autori, nell'uso della pubblicità, nella strategia complessiva, una più diretta militanza politica, una più moderna sensibilità aziendale, un più giovanile senso dell'attualità che ne rappresentano al tempo stesso le novità e i limiti, così ferretti. Più vicino alla Filtrinelli, rispetto a Inaudi, sta forse il saggiatore, nel segno dell'innovazione senza remore, dell'apertura culturale a 360 gradi, per fare catalogo delle nuove idee negli anni sessanta, aggiornando lo stato del sapere di questo Paese, come recita il catalogo del decennio iniziale. Ma accanto al fenomeno letterario, pensiamo anche al fenomeno del gruppo 63, vediamo delle realtà particolari, e cioè delle realtà grafiche molto forti. Se noi guardiamo il catalogo del primo mezzo secolo, abbiamo 6.643 titoli, suddivisi in 113 collane, e si nota una certa discontinuità che però, a ben vedere, è la vitalità traboccante di un grande catalogo, come si legge nella premessa. E all'interno di questa vitalità discontinua c'è, sempre per stare al paratesto e alla grafica, la collana dei narratori di Filtrinelli e la biblioteca di letteratura, e soprattutto c'è qualcosa di molto particolare, e cioè la collana dei franchi narratori. Una grafica innovativa, svolta su tutte e quattro le parti, di copertina, quarta e risvolti di prima e di quarta. La grafica è di Silvio Coppola, per descrivere una realtà irregolare attraverso una letteratura impura. Un nome per tutti, padre padrone dell'ex pastore Sardo Gavino Ledda, un grande successo. E ancora altre collane, dalle impronte, che vogliono lasciare un segno, almeno per quanto riguarda la narrativa, la saggistica dei volumi della collana I fatti e le idee, saggi e biografie, la cosiddetta FISB. All'attualità, altra collana che ha ospitato i primi due titoli della casitrice, il cui chiaro titolo, attualità, testimonia come Feltrinelli si sia affacciato al mondo della cultura con una particolare attenzione, rivolta ai problemi più vivi del nostro tempo. E la sua spinta, dopo la sua morte, continuerà. E arriverà addirittura al caso clamoroso di Giovanni Leone, di Camilla Cederna, un libro alla base addirittura delle dimensioni del Presidente della Repubblica anzitempo. Ma accanto ai vari fenomeni, come il gruppo 63, non vanno dimenticate altre collane come attualità scientifiche, saggi scientifici, filosofia della scienza, diretta dal 1960 da Ludovico Geimonat, nei primi anni editoriali, con una funzione pioneristica in un Paese come il nostro, culturalmente arretrato su questo versante editoriale. E anche la battaglia della censura rientra in questo discorso, ben rappresentata dall'edizione clandestina stampata in Svizzera, da Casa Grande, venduta sotto banco di Tropico del Cancro, di Harry Miller. E la letteratura resta comunque una bandiera, sempre più sudamericana, grazie alle conoscenze di Inge Schoenthal Feltrinelli. È la terza moglie di Gian Giacomo, già giornalista, fotoreporter di servizi famosi ed esclusivi su Hemingway, Picasso, Greta Garbo. La incontra nel 1958 ad Hamburgo, in una festa dedicata a lui da un grande editore tedesco dopo lo Zivago. E lui è lì dopo il successo dello Zivago ed è diretto al Polo Nord, in tenda, con la bozza del Gattopardo nello zaino. E questo Gian Giacomo Feltrinelli in quegli anni incontra Inge, stanno tutta la notte su una panchina davanti all'albergo a parlare e da lì nasce una storia d'amore. E il frutto più emblematico del rapporto di Inge, editoriale, delle sue suggestioni, delle sue proposte, sta proprio nell'avvicinamento della Feltrinelli all'America Latina. E forse Cent'anni di solitudine è il caso più eclatante. Cent'anni di solitudine di Garcia Marquez, che diventerà un successo internazionale, che porterà poi lo scrittore sudamericano al nove. Ecco, se gli scaffali di biblioteca che ospitano le collezioni feltrinelliane non sono di quelli che diventano polverosi perché reggono volumi di interesse e di continua richiesta per il loro essere nuovi e talvolta duraturi, occorre soprattutto notare come ciò vale di più per la scienza. Controcorrente rispetto, come ho detto, alle abitudini e alle classificazioni culturali italiane. E non a caso Feltrinelli è l'editore più europeo che italiano, come oggi in alcuni momenti è stato la terza, per fare un altro esempio. E forse è proprio quello scientifico lo stimolo più nuovo offerto in assoluto dall'editore, che si è giovato del contributo intellettuale ed editoriale fondamentale di Giampiero Brega, un compagno del fondatore della prima ora. Allievo di Banfi, in casa editrice fino al 1981, ha modellato e curato grandi collane come il mezzo migliaio di titoli della già citata FISB, capaci di tenere insieme saperi diversi da Auerbach a Snoda, Sodola, Asimo fino a Foucault. Ma resta sempre, in Giangiamo Feltrinelli, il tormento, ed è un elemento fondamentale per capirlo, il tormento di trovarsi in una posizione ambigua, fortemente ambigua, tra economia di capitale e idee anticapitalistiche, tra potere e rivolta. E questo tormento lo spinge verso l'estremismo, come probabile prova di coerenza, di vera rivoluzione, di cambiamento della società, come se i libri non ce la facessero. con una latitanza durata anni fino a quella mattina di marzo del 1972, quando è ritrovato per caso ai piedi di un traliccio presso Segrate, ucciso da una carica di esplosivo che lui stava maneggiando, forse per un sabotaggio, proprio per dimostrare che non combatteva soltanto con le idee con i libri, ma anche davvero rivoluzionario, perché questo era un po' il suo cruccio. Così commenta Inge. Lui finanziava gruppi di sinistra in tutto il mondo, palestinese eccetera, per questo. Lui era un uomo scomodo, scomodo per tutti, cioè meglio morto così. Io ho avuto paura per noi, perché lui era così importante qui. Per fortuna abbiamo avuto gente molto seria, come Giampiero Brega, Giuseppe Delbò e tanti altri qui, che hanno detto lasciamo fare Gian Giacomo, noi andiamo avanti. Non mi hanno lasciato sola, per questo non sono io la brava, siamo stati tutti molto bravi di non andare in fondo. Mancava in questi anni, mancava molto Gian Giacomo. Molti libri non erano più attuali. Facciamo libri anche spagliati in questo tempo, per me la mutazione della gioventù era talmente veloce, il 68, che tanti nostri libri politici si erano già datati. Per me era una cosa tragica perché si lasciava andare, era un po' un babbuto. Lui era molto, molto attaccato a Carlo. Lui era veramente un padre perfetto con Carlo, veramente. Si amavano pazzamente e lui soffriva di questa cosa. Io non vedo Carlo spesso. Tutta una vita molto tormentata, molto tormentata. Anche questi incontri erano molto tormentati. Io non dormiva due giorni prima e un mese dopo non dormiva più perché mi ha fatto molto male. Un amore così non si può mai riprendere. È come una grande malattia. E questo è anche bello. C'è una base indistruttibile, a parte del figlio, il lavoro e cose fatte insieme. È una cosa importante. Io sono anche molto grata che quando siamo visti l'ultima volta prima della morte siamo stati come intimi amici del primo anno. È vero, ho scritto una volta per me. Ho detto questo non va avanti. Ho trovato un cul de sac. Non ha avuto più forza. Era andato su un altro planeta. Non ha avuto più possibilità di recuperare. È difficile dire cosa in lui era distrutto come giovane. E forse io sono diventato anche un po' troppo forte in confronto di lui come posizione, eccetera. Sì, è un uomo che ha avuto tutto. Però dove sono i traumata, da dove arriva questo autodistruttismo non si sa. C'è una bellissima frase di Brega quando è morto e dice lui è morto per la sua tormentata coerenza. Io il 14 marzo ho avuto un appuntamento con lui e con Carlo in fronte alla piazza principale a Lugano. L'idea era di partire alle 3 e alle 3 già quando è arrivato sono stata sfinita. Ho detto questo non è possibile. Sono partito per Milano perché Carlo voleva la sua partita che era alle 5. e la sera c'era una serata di Gaia Olente per Paolo Grassi. C'era Roberto Olivetti, un grande amico. Ho detto come sei così? Ho detto ma io sono molto molto triste perché Gian Giacomo non è venuto a paura che sia successo qualche cosa. e la mattina io ho aperto il giornale e la sera, non c'era Gian Giacomo ancora, c'era un morto così, la foto. Io ho capito subito il nome, come si chiama Oscar, così, insomma è finto. Io ho visto lui e lui, senza nome perché non sapevano chi è. Io non credo nessuna versione ufficiale, c'è qualcosa tutto diverso. E per questo la cosa è molto strana e per me è completamente incredibile che cosa è successo, la storia che lei sa. Perché abbiamo aspettato le 6 ore a figlio Carlo e io a Lugano e Gian Giacomo non è venuto, non è venuto però è già morto. Non ho capito, non credo niente e sarà una di tanti, dai Borgia in poi, misteri italiani e non mi, mi lascio convincere da nessuno. Tutti bigliacchi, paura con questa sinistra, nessuno, forse sono un po' crudele, perché non ho visto altri, forse c'era una folla, perché non si è fatto vivo. A Naudi è venuto con Giulio Bolatti, con Guido Davico, tutti i suoi staff, Cerati, non è venuto da solo, lui è stato là tutto il tempo, no, devo dire un grande amico. Lui è stato molto coccolato e è andato dopo a scuola il giorno dopo. La vita, io non volevo dramatizzare la cosa, traumatizzare ancora di più. La famosa nonna Giannalisa ha insistito che lui andava in collegio in Svizzera. Io non mi ha andato in collegio, è andato a Parini, qui 5 minuti di casa, 10 minuti di casa. Credo per un bambino in questo momento il vero dolore arriva un mese dopo, non so quando è venuto il suo collo, non mi ricordo più. No, è diventato rebelle, molto rebelle dopo, era giovane, appena 10 anni. Si deve superare la tragedia, no? Si deve avere una forza di superare la tragedia. Si deve ricordarsi che la vita va in onde, si è un po' basso, però va subito, o non subito, qualche volta, però lentamente si alza di nuovo. Per questo, tutte le tragedie danno un'enorme forza, importante. Tommaso Maldonado è mio compagno da tutti questi anni e dopo la morte di Gian Giacomo mi ha aiutato moltissimo, ha aiutato molto la casitrice, lui un studioso della cultura tecnica. Lui è un uomo molto razionale, un uomo di tanti interessi e di un rigore totale. Era per me importantissimo avere questa colonna morale, anche per Carlo, perché è stato molto critico con Carlo in tante cose della sua vita e si amano molto e questo è molto bello. Quando abbiamo grande polline parliamo con Tomas, Tomas è una roccia di nostra famiglia, così si può dire. La gente era fantastica, sapevano che non c'erano soldi, non c'era niente, però c'era questo fantastico Gian Piero Brega e ho detto, ok, io rinuncio il mio stipendio di direttore editoriale, prendo il stipendio di tutti gli editor e andiamo avanti. Perché, come ho detto, le banche chiudevano la filoggiazione, nessuno sapeva che erede, un erede di nuovo, deve avere un tutore. C'era la stessa atmosfera di battaglia di prima, devo dire. No, era bello. Tanti autori sono andati via perché non c'è più soldi, non c'è più oditore, non c'è più niente. Gli avvocati hanno detto, signora lei fa quattro libri, quattro libri, una casa editrice di quattro libri e è morto, no? Però siamo stati costretti a licenziare 25 persone e questo è uno dei momenti più dolorosi e tristi della mia vita. Un momento doloroso, difficile, ed è lei, la terza moglie dell'editore, Inge, che assume la carica di presidente della casa editrice, dove ha sempre lavorato con grande passione, comunicazione, stile, mettendo in dialogo la letteratura italiana e quella internazionale, con un talento straordinario in questo senso e difendendo sempre, come una tigre, l'istituzione in una situazione tanto dura e difficile, con una capacità di rigenerazione e quindi negli anni Ottanta avviene una necessaria riorganizzazione di catalogo, un rinnovamento anche grafico, con Salvatore Gregorietti, con Bob Norda, che firma la freccia F, tuttora marca tipografica di Feltrinelli, e si registra un'apertura alla letteratura biografica con tempo ritrovato ed è ampliato anche il contributo saggistico attraverso campi del sapere, nella convinzione però che nella società che cambia la cultura si diffonda anche attraverso la letteratura d'evasione. Gian Giacomo, in verità, aveva previsto anche questo nel catalogo del 1965, scrivendo «Il libro oggi non è più soltanto strumento di studio, di stimolo impegnato, ma anche di svago, di informazione, di divertimento. Da qui a dieci anni il panorama culturale italiano, il grado di civiltà del nostro Paese, dipenderà anche in larga misura da cosa, anche nel campo della letteratura di consumo, gli italiani avranno letto». Ed è lungimirante, anche nella visione dell'importanza del tempo libero in relazione alle ore di lavoro, un'intervista a Rai con Mario Soldati e due colleghi autorevoli, Mondadori e Bompiani. E in questa intervista lui è molto chiaro e potremmo quasi dire che è molto più avanti degli altri due. «C'è una persona del leggere, che tanto ci appassiona». «Credo che le iniziative prese da alcuni editori italiani, tra i quali quelli più presenti, Mondadori col Pavone, Bompiani con i Delfini e io con l'universale economica Feltrinelli, di produrre cioè delle collane a bassissimo prezzo, non sia sufficiente per risolvere il problema che ci assilla». «Due facciamo». «Benissimo Feltrinelli, questa è una senza volere, hai tirato le somme e sei venuto un po' con le conclusioni dell'inchiesta che io ho fatto». «Negli ultimi anni le scelte principali sono indirizzate verso la novità, l'attualità, pur continuando a tracciare, anche se con una diversa militanza rispetto al fondatore, una cultura internazionale di sinistra. Negli ultimi anni ad esempio si tenta di comprendere sul nascere la rivoluzione digitale con la collana interzone nel 1995, anche a rispetto delle basse vendite. E non si vuole perdere di vista il contesto globale in cui, pur di fronte al crescente abbandono della materialità del supporto cartaceo, che diventa prima DVD, poi TV, podcast, si continua però a comunicare attraverso la mediazione editoriale, quella forza immateriale che è dentro la parola. Questa laica vocazione si ritrova non a caso nella prima e più longeva collana che resta emblematica di passato e presente della casa editrice, perché rappresenta un bene in forma e contenuto, tipici della storia di oltre 60 anni intriso di futuro. Ed è proprio l'universale economica, con i suoi oltre 2000 titoli, dove si mescolano saggistica, narrativa, tradizione, attualità, generi ed età. Ognuno di noi ha in mente più di una lettura targata a Feltrinelli. Ed è anche arduo forse scegliere un titolo che rappresenti più di altri, che sia un modello della storia del marchio, anche se forse il dottor Zivago resta unico. Ma potrebbe anche esserlo, secondo Inge Feltrinelli, sotto il vulcano di Malcolm Lowry o il Pinelli della Cederna e più di recente Novecento di Baricco, per alcuni ha un titolo di Banana Yoshimoto, di Benni o di Serra. Tuttavia, nell'editoria di oggi, dove le distinzioni tra sigle sembrano quasi sparire, sotto questo marchio si trovano, come in poche altre sedi, quella attualità politica e alcuni autori indiscutibilmente di scuderia che il lettore identifica subito con Feltrinelli e con i suoi tascabili. Pensiamo a Isabella Allende, e quindi siamo all'inizio degli anni Ottanta, quando esce la sua Casa degli Spiriti, oppure Saramago, di lì a pochi anni, e poi pensiamo al fenomeno Pennac, e siamo negli anni Novanta, e quindi ad autori italiani di culto, come Antonio Tabucchi ed Erri De Luca. e la riconoscibilità è anche nello stile, è ancora nello stile delle librerie, come era stato all'inizio. Librerie che hanno reinventato un'editoria per tutti, non tanto il prodotto ma il servizio, come aveva immaginato Gian Giacomo alla fine degli anni Cinquanta, e soprattutto per i giovani, diventando la prima catena italiana di libri e non solo. Feltrinelli oggi è un gruppo che impiega 2.000 persone, che vende 17 milioni di copie l'anno, con 118 librerie e un milione e mezzo di utenti social, con varie partecipazioni in case editrici, attività anche straniere, come Anagrama, di recente anche nel settore scuola e di learning, quindi education. Esistono libri necessari, amava a sostenere Gian Giacomo Feltrinelli, e proprio per questo parlare di una casa editrice come di un bene pubblico non è azzardato, anche perché non è stata tradita quella genuina lealtà illuminista con cui non si cambia il mondo ma si può sempre comunicare e aggiornare il significato della parola uguaglianza, come ha detto il suo erede Carlo. E potremmo aggiungere a uguaglianza oggi purtroppo anche la parola pace. Se si comunica in un catalogo piccolo o grande che sia queste parole, questi valori, allora siamo di fronte a un bene pubblico, come l'ho chiamato, che lo Stato dovrebbe valorizzare e sostenere, come purtroppo anche in questo momento di difficoltà per la filiera editoriale non sta facendo. C'è qualche speranza? Che cos'è un editore? Si era chiesto nel 1967 con la domanda da cui siamo partiti. Dalle risposte di Gian Giacomo Feltrinelli c'era questa, con cui chiudiamo il suo ricordo. Scrive, l'editore è niente, puro luogo d'incontro e di smistamento, di ricezione, di trasmissione. E tuttavia occorre...